Rendere la cattedrale di sempre, da quando è stata voluta, da quando è stata poi posteriormente abbellita, arricchita, di renderla adeguata alla liturgia di oggi. La maestosità rinascimentale della cattedrale di Belluno sarà oggetto di lavori di adeguamento liturgico. Il 27 ottobre scorso la prestigiosa giuria, nominata dal Vescovo Marangoni, ha individuato il progetto vincitore del Bando Nazionale promosso dalla CEI. Si tratta del lavoro presentato dal gruppo coordinato dall'architetta Vicentina Francesca Leto, spazi ampi e armonici, l'altare come parte centrale del progetto che intreccia la pietra di Castellavazzo con il marmo di Cugnan, una croce argente a nuova che riprende i freggi della facciata principale, l'ambone avanzato verso l'assemblea con due leggi dedicati, l'uno all'annuncio della parola, l'altro a quello del Vangelo. Non sarà un di più nel senso che stravolge la cattedrale, ma un di più che la rende vivibile e apprezzabile ulteriormente e liturgicamente oggi. Il progetto non è ancora esecutivo, ma l'auspicio è che i lavori inizino al più presto dopo il confronto con la Chiesa. Ci sono alcune date interessanti come quella di Papa Luciani che verrà beatificato, dove non sappiamo, ma in ogni caso la cattedrale sarà un punto necessariamente da valorizzare e su cui si faranno anche delle celebrazioni. Era una delle ragioni, questa dell'iter per la beatificazione di Papa Luciani, per cui noi abbiamo detto, sì certo, la cattedrale va adeguata liturgicamente. La disponibilità finanziaria è di 400 mila euro, il 75% dei quali messi a disposizione della CEI con l'8 per mille. Contatti sono già in corso con la sopraintendenza e gli enti preposti alle autorizzazioni.